l'otto 351 regge navi e torpediniere una collezione di 22 medaglie con cose sicuramente di non facile reperibilità ci sono presenti anche alcune medaglie in in argento la trasporto stromboli reggiano la gorizia la reggia torpediniera pallade o pallade dragamine vischio saetta motocannoniera la fregata margottini la reggiana del sgombro la san giorgio la reggiana del piso sommergibile la torpediniera centauro corvetta grosso altro non mergibile pelosi insieme di per sé molto interessante è un ottimo stato se volete altre informazioni scrivete al negozio chioccio la 4 baiocchi puntocom